Se sono stati spesi soldi per iniziative culturali come questa del Paladino, sono stati spesi bene. Festa è pacifico e altro non so, perché il resto ho venuto a vederlo per conto mio. Soldi spesi bene dunque quelli per la cultura retina e in particolar modo per la mostra di Paladino in fortezza, secondo il filosofo e scrittore Massimo Cacciari. L'ex sindaco di Venezia, visitando la mostra, ha difeso a spada tratta questo tipo di investimenti che tanto hanno fatto discutere ad Arezzo per la loro entità nelle ultime settimane. Un'opera del genere, un allestimento del genere, che valorizzano luoghi poco noti della città come la fortezza. Sono soldi ben spesi, non so quanti ne abbiano spesi, non mi interessa, ma sono soldi ben spesi. Il resto non parlo perché non ho nessuna conoscenza dei programmi culturali della città. So che è una grandissima fesseria quello di pensare che il nostro Paese possa ritenere cultura, promozione del nostro patrimonio, ricerca, scuole, università, tutto questo immateriale come una spesa optional. Questo è demenziale perché la fonte sostanziale delle nostre ricchezze oggi in questo Paese è patrimonio turistico, patrimonio ambientale, patrimonio artistico, patrimonio monumentale collegate ad alcune grandi filiere anche industriali, per esempio l'argo industria. Dire che si spende troppo in questo è, uno, sbagliatissimo, si spende pochissimo rispetto ad altri Paesi. Secondo, demenziale, perché sono le cose in cui dovresti investire di più, se vuoi creare e produrre ricchezze in questo Paese. Questi sono i fatti. Il paladino è uno di quelli che rappresenta, secondo me, la nostra condizione. L'arte non salva, la filosofia non salva, però possono rappresentare con realismo e con carica anche simbolica e con carica affettiva la nostra condizione. Se tu non conosci te stesso, nemmeno potrai sperare ad alcuna salvezza.